ci troviamo a torrice esattamente in via camillo benzo conte di cavur nei pressi della chiesa di santa lucia in prossimità dell'ufficio costale per la vendita di questo appartamento posto al secondo piano di piccola palazzina carattere familiare l'appartamento internamente è stato ristrutturato completamente come potete vedere in fissi nuovi in pvc con doppio vetro pavimento nuovo impianti lo stesso sono state rifatti bagno nuovo questa è la veduta su tutta la vallata a un'ottima esposizione un'esposizione a sud e parliamo di un appartamento con ingresso due camere da letto queste che stiamo adesso guardando è una stanza da letto quello di fronte è il bagno con doccia questa è la camera matrimoniale la seconda camera con affaccio su un piccolo balconcino da cui anche su questo lato si gode un'ottima vista sulla vallata e sulle montagne il riscaldamento autonomo ecco la caldaia proseguiamo il giro il bagno come vi dicevo ristrutturato potete vedere che c'è ancora la carta ai sanitari quindi mai usato proseguiamo qui abbiamo la zona giorno una bella zona giorno in open space l'angolo cottura che volendo può essere anche diviso diventare una cucina abitabile separata dal soggiorno e questa è la zona soggiorno anche da qui abbiamo una bella visuale parliamo di un appartamento di 90 metri quadri quindi un taglio comodo per una famiglia di quattro persone